E sì, e poi mi volevano portare via quelli della Neuro Deliri, quelli lì, sì, è perché dicevano che, è perché la titola non mi voleva lasciare tutti i libri che volevo in stock a un euro. E lo so, ma io, ma sì, poi mi è passato, ma sì, l'hanno visto anche gli amici di Instagram che poi mi è passato, sicuramente lo avete visto ieri con le mie avventure, le avventure appunto di sabato pomeriggio al mercatino dell'usato, vi voglio rassicurare del fatto che non solo la mia wishlist non sia azzerata, come appunto desideravo, poi la Neuro Deliri mi ha riportato a casa, e la wishlist, se è allargata della serie, la chiudiamo comunque, la accorciamo il giorno dopo e anche oggi la accorciamo domani, fatto sta che io sono Serena, lo sapete ormai, ma mi ripeto perché mi piace ripetermi, questo è il mio canale, Serena con un libro in mano, qui parliamo di filosofia, parliamo di libri, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché parliamo di libri senza spoiler, e di serie tv e di filosofia, e quindi non dimenticate di lasciarmi tanti bei pollici in su, per farmi sapere chi vi piacciono i video, e soprattutto di commentare qui sotto, e di seguirmi su Instagram, naturalmente voglio dire, su Instagram mi vedrete, qualcuno forse non ha già visto, con questo simpatico copricapo, che ho messo per l'occasione perché oggi è la prima domenica di ottobre, e quindi sto preparando le liste dei libri da fare a ottobre, molti, qualcuno di questi libri già l'avete visto su Instagram, non sono tutti libri che non ho mai letto, ci sono anche tanti libri che ho letto, ma voglio comunque parlarvene, perché se volete fare in ottobre qualche lettura, diciamo un pochino da gustorio, un po' così, diciamo un po' così, potete appunto farlo, anche seguendo i consigli di Serena con un libro in mano, che sono sempre consigli, che in qualche modo vanno verso il classico, e infatti parleremo tra qualche tempo, vi farò una bella sorpresa qui sul canale, di Edgar Allan Poe, che sarà il primo autore, che farà parte della nostra rubrica dedicata a chi l'ha scritto, perché si parla sempre di libri, ma poco degli autori, e quindi comincieremo a prendere un'opera di Edgar Allan Poe, non vi dico quale, se non vi spoilerò tutto, e poi ne parleremo ovviamente qui sul canale, non precisamente dell'opera, ma dell'autore, e poi comunque sarà il là, per cui prenderà l'avvio qualcosa, e vedremo sempre che il TSO non me lo segnino prima, comunque, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, commentate, piacciate, se potete, fate tutte e due le cose, perché così sono tranquilla, mi metto tranquilla, che il video vi è piaciuto. Il libro di oggi, gli amici che mi seguono su Instagram già sanno che in questo periodo ho ultimato di leggere The Ghost Bride, questo libro qui, scritto da una scrittrice di origine cinese, che vive in California, dal nome assolutamente impronunciabile, quindi non lo pronuncerò qui, non lo pronuncerò, la lingua è quella cinese, non lo pronuncerò qui, fatto sperare, scusate, e comunque in italiano ovviamente la sposa fantasma di questo libro, come sapete c'è anche la serie televisiva Netflix, originale Netflix, che però non potete seguire doppiata, diciamo così, perché non è stato doppiato in italiano, quindi ve la dovete sentire o indirettamente in mandarino, oppure ve la dovete sentire in inglese e anglosassone, il che è una cosa ottima, lo sapete, perché potete fare esercizio di appunto ascolto della lingua inglese, quindi vi consiglio, sinceramente l'ho sentita in tutte e due le lingue, un pochino originale e poi l'inglese anglosassone. Ovviamente avete anche il supporto dei sottotitoli, se riuscite a sentirle in inglese e a leggere i sottotitoli in inglese, la fate tonda, cioè riuscite veramente a esercitarvi, quindi ne approfitto per dirvi che molte volte queste serie televisive non doppiate sono in realtà fuoriere di belle sorprese, nel senso che possono essere utilizzate proprio come esercizio di ascolto in un'altra lingua. Poi sinceramente io non avevo mai ascoltato nulla in cinese, o meglio in mandarino, e sono rimasta letteralmente colpita, innanzitutto dalla difficoltà ovviamente di per sé della lingua, cioè dalla lontananza che abbiamo nei confronti di questa lingua, ma anche dalla sua musicalità, insomma è una bellissima esperienza, quindi non è diciamo come dire, ogni diciamo così impedimento in un certo senso è un giovamento, perché ci dà la possibilità, è vero non è doppiata, ma di fare qualcos'altro con questa serie televisiva. Ma oggi non parliamo della serie televisiva, parliamo del libro, che è un libro estremamente lontano dalla serie televisiva, nonostante la serie televisiva sia, diciamo in qualche modo, si fondi sul libro, sia tratta appunto dal libro, assolutamente sono due prodotti molto diversi, e direi la verità quasi complementari, anzi sicuramente complementari, perché qui siamo di fronte a un giallo, mentre nella serie televisiva abbiamo dei toni un pochino più da go storie classica, da salto sul divano in alcuni punti, e però abbiamo anche questa ironia, questa fortissima ironia che manca invece nel libro. Protagonista Lilan, una giovane ragazza, libro ambientato nella Malacca di fine appunto 800, una ragazza che non ha più la mamma, vive con il papà, e con la sua amà, che è appunto la sua balia, che è stata anche la balia della mamma. Lilan riceve una stranissima proposta, quella di diventare una sposa fantasma, e alla fine del libro leggiamo che questa è un'usanza non tanto diffusa comunque, in epoche lontane, in Cina in particolare, in epoche abbastanza lontane, quindi non è una cosa poi tanto diffusa, cioè quella di poter andare in sposa ad un defunto, con un matrimonio particolare, ovviamente siamo in una cultura totalmente diversa dalla nostra, una cultura taoista appunto, e c'è, ci sono dei grossi spunti di riflessione sulla socialità, sulla differenza fra lo shintoismo e il taoismo, e ci rendiamo conto di quanto sia affascinante e diverso, lontano da noi questo mondo, e in qualche modo pieno pieno di spunti di riflessioni, anche da un punto di vista propriamente sociale. Si sente che la scrittrice comunque ha una formazione, una cultura molto vicina all'Occidente, infatti vive in California, e in qualche modo in certi punti è molto critica, negli aspetti un pochino più legati alla superstizione, voglio dire. Anche se poi alla fine il mondo in cui si viene a calare lilan è un mondo reale, nel senso che poi certe cose comunque sono legate magari alla superstizione, e poi accadono, perché l'ilano a un certo punto si troverà in una sorta, diciamo, di regno di passaggio, una sorta di ade, diciamo così, molto rappresentato alla maniera appunto taoista, quindi dove abbiamo comunque anche dei guardiani, abbiamo comunque anche degli oggetti fisici, nel senso che usano, diciamo così, bruciare della moneta speciale, speciale, diciamo, e anche degli oggetti veri e propri, in modo che loro pensano che possano in qualche modo ricomparire dall'altra parte. Quindi c'è un vero e proprio regno di confine, dove diciamo così le anime uscite dal corpo aspettano di essere giudicate per poi passare magari anche alla reincarnazione, cioè una visione comunque buddista della faccenda, dove però loro hanno la possibilità di avere una casa, cioè di avere appunto del cibo, di nutrirsi, ma il tutto rappresentato alla maniera dell'incubo, alla maniera del sogno, e quindi un po' alla Tim Burton, diciamo così, in questo senso è molto affascinante, ma sempre in questo senso ho trovato molto più affascinante la serie televisiva, perché di per sé la trama è molto più gialla qui, perché c'è un mistero da risolvere, c'è un sospetto omicidio, e c'è questa ragazza che dovrà muoversi all'interno appunto di questo mondo, molto particolare, molto estremamente ovviamente unirico, e che la metterà anche a confronto con sé stessa, perché a un certo punto, vi faccio un piccolissimo spoiler, quando lei esce tra virgolette dal suo corpo, pur non essendo morta, vede il suo corpo, e lo percepisce finalmente come qualcosa di reale, non lo dà più per scontato. Quante volte ci capita di considerare il nostro corpo come qualcosa di accessorio, come qualcosa che ci portiamo dietro così, e lei si rende conto di quanto si sia trascurata quando era all'interno del suo corpo, quindi un libro che ci dà anche degli spunti di riflessione, diciamo di tipo di programmazione neurolinguistica, voglio dire, è un libro che espande le potenzialità, diciamo così, di ascolto e anche di giudizio, quindi in questo senso è estremamente interessante. A chi consiglio la sposa fantasma? Sicuramente a chi ama i gialli, un po' particolare, diciamo, fuori dal comune, più di una volta vi ritroverete a leggere, a dire, ma qui veramente siamo di fronte a qualcosa di molto intelligente, di molto arguto e anche di molto elegante, direi che il libro è estremamente elegante, quindi se vi piacciono le trame eleganti, vi piacciono le storie anche un po' romantiche, perché c'è un personaggio che è un drago, quindi un personaggio fantasy, perché il genere è comunque un fantasy, della quale appunto, che farà, diciamo, girare la testa la nostra protagonista, quindi c'è anche un elemento di romanticismo, c'è anche uno scontro culturale inevitabile, c'è presente comunque fortemente l'Occidente, c'è una critica anche nei confronti di una certa cultura, di una certa mentalità, ma c'è anche l'attaccamento a quella cultura e quindi c'è un giusto equilibrio e poi alla fine del libro ci sono delle interessanti discussioni che fa la stessa autrice relativamente appunto a questa cultura buddista, taoista, diciamo shintoista, cioè a queste differenze che comunque ci sono all'interno di quello che è un continente e che noi pensiamo sia un qualcosa, diciamo, di piccolo, in realtà è qualcosa di estremamente grande ed estremamente complesso. Voi sapete quanto io amo penetrare all'interno delle altre culture perché comunque quando noi leggiamo un libro che è scritto, diciamo, e che fa parte di un pezzo di umanità così lontano dalla nostra, non possiamo che soltanto prenderne del bene perché in qualche modo quando usciamo dal nostro orticello per guardarci fuori, per vedere come altre persone possono ragionare, possono vedere, scopriamo, diciamo così, altri punti di vista che comunque ci aiutano anche a capire meglio il nostro, arricchiscono, diciamo, il nostro di punto di vista e in un certo senso ci danno degli spunti di riflessione molto più vicini a noi di quanto possiamo in qualche modo pensare. Quindi sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto. Se dovessi metterlo in paragone alla serie televisiva, quella mi è piaciuta di più, ma ne parleremo in un altro video perché voglio fare appunto un video a parte, però assolutamente, diciamo, su 5 stelle questo libro si prende assolutamente un bel 4 stelle perché mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto soprattutto per l'originalità perché questa visione, diciamo, del mondo, è vero che non è che sarà inventata l'autrice, ma è inserita all'interno di un giallo perché poi ci sarà, non voglio ovviamente spoilerare, però ci sono ad esempio delle situazioni limite dove cioè queste anime cercano di fare le furbe come accade esattamente nel mondo reale, diciamo così, cercano di ingannare in qualche modo i, diciamo così, i custodi, quelli che dovranno poi in qualche modo giudicarli, e quindi si creano delle situazioni un po' noire all'interno comunque di questo luogo di passaggio che è una sorta appunto di ade vero e proprio dove le anime mangiano, dove, diciamo, gli viene in qualche modo concesso quello che i loro parenti, diciamo così, sulla terra gli danno con queste offerte che vengono fatte bruciando appunto oggetti, bruciando denaro speciale, eccetera, eccetera. c'è anche dell'ironia perché ovviamente c'è, ma in questo senso la serie tv è molto più spinta verso l'ironia. Sono sei episodi Netflix, originali Netflix, e però, ripeto, ne parleremo nel prossimo video perché appunto oggi voglio parlare e vi ho parlato soltanto di The Ghost Bride. Quindi, il prossimo video sarà assolutamente dedicato probabilmente a un altro book haul perché ieri appunto ho acquistato altri libri usati e quindi ci vediamo con il prossimo book haul e poi ovviamente ci vediamo con le nostre iniziative legate al mese di ottobre. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, un bacione a tutti! Grazie a tutti!